Per quale motivo non riesci a manifestare la tua persona specifica? Adesso vi faccio un semplice esempio delle decine di messaggi che mi arrivano ogni giorno. Mi costa manifestando da un mese la mia persona specifica ma non si sta smuovendo niente. Chiedo che cos'è che sta succedendo e mi arriva di tutto e di più. Allora io ho mandato un messaggio però non mi ha risposto, però mi ha visualizzato le storie quindi significa che comunque gli interesso. Però poi sono uscita e ha fatto finta di non vedermi con i suoi amici quindi è uno stronzo, non lo voglio più, non mi interessa, anzi sai che c'è ho bisogno di una persona che mi valido, ho bisogno di una persona che sia davvero innamorata di me. Prendete questa decisione e dopo un paio di giorni mi dite però l'ho rivisto per strada e mi fissava, quindi che significa che siamo più a me gemelle che siamo fatti l'una per l'altra, quindi sai che c'è e ricomincio a manifestarlo perché sono sicura che adesso che sto lavorando su mio self concept lo voglio e lui vorrà anche me. Dopo altri due giorni, Nicola io sto lavorando solo tantissimo su self concept sto facendo tante affermazioni ma da quello che vedo lui non mi guarda più le storie e non mi scrive più messaggi e non mi risponde più ho scritto al suo amico e mi ha chiesto che stava con lui e che non stavano neanche parlando di me quindi che vuol dire che non sta funzionando? Spoiler, non stai lavorando su self concept perché altrimenti non ti importerebbe niente quindi allora sai che c'è, dopo vado e lo voglio affrontare lo voglio dire in faccia a tutto quello che penso, magari sono passati tre giorni Nicola, allora io ho detto in faccia a tutto quello che pensavo però lui mi ha detto che stavo correndo troppo quindi sono tornata a casa e mi ha bloccato e allora adesso io che faccio? Adesso lo manifesto, manifesto che lui sia ossessione di me così finalmente potremo stare insieme eccetera poi tutto manifesterò che lui sia ossessione a me perché così mi posso vendicare però sai che c'è, domani conoscerò un altro ragazzo e mi ossessionerò anche con lui e quindi sarò un po' incoerente con questa situazione magari è lui e quest'altro la mia fiamma gemella e quindi ho delegato tutto quanto a lui perché pensavo che fosse la mia fiamma e invece lui è la mia fiamma falsa e invece quest'altro la mia fiamma vera Nicola ho fatto le affermazioni ma lui mi ha guardato solo le storie e non mi ha scritto un messaggio quindi vuol dire che la manifestazione non funziona quindi vuol dire che non si può manifestare la persona specifica perché ci sono altri creditori che dicono che non si può manifestare la persona specifica e quindi adesso sto andando in confusione e non ci sto capendo più niente io l'ho manifestato ma adesso non si sta manifestando perché vuol dire che c'è il libro e il video che non si può manifestare Capite perché non riuscite a manifestare quello che volete? Quando proiettate tanta insicurezza, tanta confusione quello che ricevete essendo il vostro corrispondente non può essere altro che tanta confusione e tanta insicurezza Fate introspezione, cercate di capire come mai delegate la felicità delegate la vostra soddisfazione delegate il vostro successo alle altre persone io ho successo solo se riesco a manifestare la persona specifica non è così Il self concept, non puoi lavorare sul self concept facendo tre affermazioni al giorno mentre ti stai lavando i denti uscendo di casa e pretendendo che sia tutto già cambiato ci vuole del tempo vi faccio sempre l'esempio della manifestazione come la gravidanza ci vuole tempo, non è una cosa immediata può essere immediato il vostro cambiamento ma finché il vostro cambiamento lo possiate vedere nella realtà tridimensionale ci dovete lavorare perché altrimenti non cambia niente altrimenti non cambia niente voi fate un po' di lavoro poi essendo abituate comunque a una mentalità di mancanza e di paura dopo un po' le vecchie abitudini tornano perché se non persistete nel nuovo assunto non si può creare una nuova abitudine tornano le vecchie abitudini e di conseguenza ritorna la manifestazione come la prima non si può fare dovete armarvi di pazienza non vi corre indietro nessuno nessuno vi porterà via le cose vostre non succederà niente di tutto questo però vi prego cominciate veramente a lavorare sulle vostre consapevolezze leggete libri di manifestazione perché questo vi aiuta tantissimo altrimenti andate nel pallone guardando 2000 video diversi con cose diverse perché ogni creator ha una credenza diversa quindi parla delle proprie credenze sul proprio profilo voi non riuscite a manifestare perché non riuscite ad essere coerenti cercare di essere più coerenti vedrete che i risultati arriveranno non riuscite ad essere coerenti non riuscite ad essere coerenti non riuscite ad essere coerenti